mentre questo qua è un maschietto Pigeon Blood Silver potete notare la colorazione appunto più o meno metallica del corpo qualche striatura sul viso Allora Allora Bine Perchè 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 e appena messo del pastone appena finirò la ripresa lo lascerò in pace di mangiare e 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